A Cava dei Tirreni anno zero per la Festa della Musica, ci ha tenuto tanto a portarla anche qui in città, perché? Noi siamo aperti a tutte le realtà, noi puntiamo molto alla cultura, all'arte, alla musica e non era possibile che in tutto il mondo si svolge la Festa della Musica già dagli anni 80, qui a Cava dei Tirreni ancora non era arrivata. Il Sindaco ha voluto fortemente organizzare questa festa anche qui a Cava dei Tirreni, ma soprattutto finalizzata all'aspetto molto culturale e di arte, attraverso il coinvolgimento dei giovani, delle associazioni degli amici della terza età, attraverso un convegno, quindi un aspetto molto più culturale e non solo musicale. Il mese di giugno per Cava dei Tirreni è il mese del folklore per eccellenza, in questo caso alla benedizione dei trommonieri e seguito Rinascicava. Rinascicava che però per parole del Presidente Aldo Trezza di Confesercenti non è quello che ci si aspettava, addirittura ha definito squallide i banconi e le bancarelle che vediamo sul Borgo Grande. Qual è la sua risposta? Allora, a me le sollecitazioni che mi fa il Presidente Trezza sono sempre di stimolo e di consiglio. Ritenere squallide è una cosa organizzata anche da lui, perché prima di organizzarla ci siamo confrontati con tutte le associazioni del territorio, lo trovo un attimo di cattivo gusto e di mancanza di rispetto. Queste illazioni, non perché stiamo riscuotendo veramente un successo, i commercianti sono contenti perché abbiamo curato molto il decoro, sono vestiti in abiti d'epoca, gli espositori, non mi risulta che facciano vendite, anzi farò fare i controlli subito dai vigili, però parliamo di tutti i banchetti artigianati, di merce prodotta da loro che abbraccia il periodo delle nostre revocazioni storiche. Quindi abbiamo diversi artisti del territorio, quindi non vedo questo chiacchiericcio che ci fa il Presidente Trezza da dove proviene. Forse farebbe bene a promuoverci, ad invitarci a sposare qualche suo evento, perché ancora non me ne sono arrivati. Da Natale che gli ho fatto già l'invito e la proposta, che stiamo a giugno, sono passati sei mesi, però proposte dal Presidente Trezza ad oggi ancora non me ne sono arrivate. Grazie a tutti.